Superato di testa da Sbardella, adesso Barberini, il possesso sulla tre quarti, lancia Cardoni Cardoni bravo in mezzo per Alessandro, tiro! E la rete della Samb, il vantaggio di Alessandro! L'1-0 dei rosso-blu sotto la curva nord, esplode la riviera delle Palme! Poi la lancio per Battista, per la via centrali trattenuto Vediamo la segnalazione del direttore di gara, rosso Calcio di rigore per la Samb Fischio che arriva in questo momento sotto la nord Parte la rincorsa di Arrigoni, il tiro è la rete della Samb Raddoppia Andrea Arrigoni da calcio di rigore Quando siamo giunti al trentunesimo minuto Samb 2, Termoli 0 Con Barberini che riceve da Battista Barberini Largo c'è Zobboletti dentro per Chiatante Il 3-0 La mette in porta Federico Chiatante Attenzione, vediamo l'azione della Termoli Che riceve un calcio di rigore Con ammunizione Ammunito Capitana Sirri Calcio di rigore per il Termoli Il rigore è battuto dalla Termoli 3-1 Triplice fischio del direttore di gara 3-1 per la Samba alla Riviera delle Palme Terza vittoria consecutiva dei Rosso Blu Che va a consolidare quella bella posizione in classifica Grazie! Grazie.